sono di nuovo in live bene ok Isaac c'è un problema la Valor ha una testata da 12 megatoni il deposito Siluri è danneggiato sistema subito la testata prima che qualcosa la inneschi occupato, 12 megatoni lo sai che non sono un ingegnere nucleare vero? non serve che tu lo sia stabilizza la testata e lanciala lontana dall'Ishimura non ti ha insegnato nemmeno a fare appetti mostri con una Lama al Plasma non sei ancora deluso non si Grazie a tutti 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 Pronto? Grazie a tutti 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 Ah! C'è bella! Che ti ha fatto una cosa? Portiamolo sulla canyon! Mi scusate! Paragli! Paragli! No! No! Emo! 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 Tu l'hai ucciso! Emo! 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 Cosa? I valori di Ammont sono piatti! Emo! Oh mio Dio! Attenzione! Avrei accelerare in tutti i sistemi privati! Cazzo! Navallo esploderà! Scappa! Attenzione! Avaria dei sistemi primari! Evacuazione immediata! Attenzione! Avaria dei sistemi primari! Evacuazione immediata! Attenzione! Attenzione! Avaria dei sistemi primari! Evacuazione immediata! Attenzione! Sulay sea! Grazie a tutti. 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 Aspetta, ti supplico, fai attenzione, siamo rimasti solo noi. Uscita da gravitate. Grazie a tutti. Ok. Fine della live, bene gente, alla prossima e grazie di tutto.